La negoziazione delimitata durante gli ultimi giornati del mercato di Freipersboglia in poche ore l'ha ma tassa degli accordi economici che si trova tra le parti. Alla fine delle parti. È terminata senza un risultato positivo. Informazioni prelievo su Attaccante di classe 2001 che si attaccano ha risolto suo contratto con il Manchester United mese. Scorso a causa problemi giudiziari. Un affare non facile. Ma che la direzione cercherà di chiudersi fino alla fine. Il La Lazio non ha bisogno di prendere altro attaccante. Greenwood è considerato un'opportunità per le ultime ore delle IL mercato per il quale vale la pena. Fare un tentativo. Soprattutto a causa delle condizioni non ottimali di Pedro. Lottando con problema con una caviglia. Il giocatore piace. Per lasciare alcuni dubbi è l'aspetto del personaggio. Prima una denuncia di l'allora fidanzata Errit. Robson che sui suoi profili sociali aveva pubblicato foto che mostravano lividi e lividi causati. Dal giocatore. Dopo essere stato rilasciato su cauzione. Nell'ottobre 2022 fu ancora arrestato con l'accusa di aver tentato contattare segretamente l'ex partner. Un'altra cauzione e altre uscite. Messa i problemi giudiziari potrebbero aprire un nuovo capitolo della sua carriera lotito e al. Lavoro. Lazio cerca Greenwood.